Ciao cari, sono Atrix, signori bentornati cari nel canale, torniamo su The Marvel Snap, oggi fidelmente condividendo la nuova carta uscita ieri martedì, Hercules, Hercules è la nuova carta, ieri l'abbiamo giocata forse anche più del dovuto, perché alla fine comunque ieri mi sono divertito a giocare Hercules e oggi ovviamente non può che mancare il video, come è stata edizione, il video della carta qui su YouTube per mostrarvela, farvi vedere un secondo quale mazzo potrebbe supportarla e poi ovviamente dare delle opinabili e soggettive impressioni di quello che per me vale come carta Hercules se conviene comprarla e se magari potrebbe avere più o meno futuro. Prima ovviamente di iniziare tutta sta giostra, vi ricordo ovviamente un mi piace al video, iscrivetevi al canale se volete supportarlo, oggi ovviamente ragazzi ci vediamo come di consueto live su Twitch intorno alle 5, 5.30 per continuare ovviamente a giocare la carta nuova, magari provarla in più mazzi e vedere se possiamo ovviamente continuare a scalare. Vi ricordo come sempre NordVPN dello Fresh, vi aspetto in descrizione, ormai sponsor solidi di questo canale per da una parte farvi godere di una cucina raffinata orientale con chilometri a chilometro zero, con scondi imperdibili, dall'altra ovviamente NordVPN. E la possibilità dunque di geolocalizzarvi in paesi per godere di beni e di servizi di quei paesi, migliorare la vostra sicurezza informatica e ovviamente come sempre approfittare del conio di quel paese per poter fare i vostri shop online, che vi devo dire dai. Il mazzo di oggi con Hercules è un mazzo che vi riporterà indietro nel tempo, un move puro con Heimdall, ve lo faccio vedere subito. E signori e signori, attenzione perché oggi è quel giorno, è il giorno in cui il 99 proverà ovviamente, tra altre cose non ricordavo nemmeno di avere una variante spotlight del 2099, a scammare e vince una partita. Quindi, prendiamo un attimo la carta nuova, ovviamente, sì, c'è lo spotlight, la gol pre di Lollo e ogni volta che una carta tua o avversaria viene spostata qui, Hercules, attenzione, gli dà un cazzotto e la risposta su un'altra location. Basta, basta, vabbè, tu questo non fai niente di più, il mazzo move puro, ovviamente la sinergia con Volture, ovviamente con il 99, potrebbe essere interessante mettere anche Dagger in questo mazzo. E l'idea in realtà è quella di Oli e Niko Minoru e ci sto pensando adesso con voi perché ieri non l'ho ammesso e visto che oggi e visto che di consueto utilizziamo questi contenuti per provare anche cose nuove, voglio trastare questa mia idea e mettere Dagger in questo mazzo. E secondo me va a migliorare molto un Endal che altrimenti, regà, era un po' zoppo perché aveva solamente Volture e forse il 99 si aveva già sviluppato l'effetto. Dagger è una carta in più per approfittare di Endal. E voi scherzate, voi ridete, ieri abbiamo quasi fatto la top 300 con questo mazzo, non di certo per la sua forza, ma molto abilmente per la mia skill. È ovvio, è chiaro, è palese, dai. Allora, secondino, regà, che devo togliere un po' di troianate qui sullo schermo. Nel frattempo siamo contro Mellow e Human Torch e Dagger Clock. Non pare brutta come idea. Mi vorrei togliere quella roba lì ma sto un po' rincoglionito e non lo vedo. Non lo vedo. Perfetto. Ah, progetto Pegasus. Ho capito. E vabbè. We'rewolf. Woosbane. Volture. Dagger Clock. Una cosa del genere. Vediamo, 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 bro. Rispettiamo il nostro Mellow, non lo snappiamo. Oggi è difficile snappare altre cose con questo mazzo, regà. È abbastanza complesso. Lui... E lui... E lui ha trovato tutto, bro. Gemma gialla, l'ho giù. Va bene, va bene, ci sta. Posso capirlo, posso capirlo. Questo, questo ci fa piacere. Questo ci fa molto piacere. Hotel Inferno. Zabu interessante ma... Il progetto Pegasus ha già fatto il lavoro. Dobbiamo capire dove vogliamo fare Clock. Perché poi ci sposteremo Dagger e Vulture. Piccato perché la strada è molto interessante, regà. Ma lui è veramente startato bene. Sta sfigando molto con le gemme. Che ci porta a noi a godere. Allora... Regà, audio. Clock... Dagger. Al che... Spostiamo Dagger e Vulture. E poi Aimdal potremmo fa. Oppure no, vediamo. Sì. Sì, poi Aimdal facciamo e spostiamo Werewolf. Sicuramente Clock è la play. Vediamo. Anche perché sto da vendere lì lo posso fare Clock. Se ci pensi. Lui va di Wave. Ok. Ok. Dici tu mattina che stai a pensare? Te lo dico subito. Sto pensando di rispondere Human Torch invece che Dagger. E c'è Human Torch e Dagger invece che Volt. Torch e B no. E poi fare Aimdal. Se prendo il 99 posso fare con Spider. Se prendo tutto... Cioè posso fare cose, regà, così. A me piace sta play. Di un botto. Vediamo. Vedi, non mi grugo neanche a sinistra perché adesso, babam, Werewolf si risposta a destra. Vedi, tac. Devil Dino, forte. Vediamo, è forte. Magari non basta. Ma questa non è bellissima. Questa è bellissima. È. Allora, di base... Le base qua si chiama. Ora, ovviamente, regà... Cioè, nel senso... Le rocce ci hanno spaccato il culo, no? Perché in Italia era di ballare in mezzo e poi rispostare Werewolf a destra, no? E vabbè. Pazzesco. Allora, questo è il primo game della giornata, mentre mi sorseggio dopo questo caffè. E... Ehm... Sono molto contento. Grazie, se volessi a fare un'intervista. Dagger, la mia amica, il mio amore, che subito... Una 2.10. Sì, una 2.10 al suo primo game. Molto piacere. Molto piacere. Regà, e... Dici di... Matti, ma... Oddio mio, questo bufuro, ma che è? Perché è così forte? Perché non abbiamo pescato Hercules, probabilmente. Quando arriva Hercules, le cose saranno un tantino diverse. Ovviamente, quello che è successo in questa partita è... Che il nostro mazzo è girato molto bene. E che il suo log Joe non ha fatto altro che prendere gemme. Immagino che, infatti, il mello sia molto incazzato. Però, come primo game... Oh, me la collo! Cioè, alla fine, per capire un secondino, l'engine del mazzo ci sta. Comunque, lui è partito con gemma gialla in 2 log Joe. Poi, ovviamente, qualsiasi gemma ha flippato. Gli è uscita un'altra gemma. E noi godiamo di questa cosa. Ovviamente, non abbiamo attivato troppi effetti. O meglio, Clock ha sentenziato il game. Werewolf pure. Dobbiamo ringraziare il progetto Pegasus. Perché, se ne avrei progetto Pegasus a sto mazzo, raga, senza Zabbo, rischia un poco di inchiodarsi. Ma attenzione, perché abbiamo Human Torch, abbiamo Dagger e abbiamo ancora Clock. E... Attenzione! Ovviamente, raga, è inutile che ve lo dico. Shadow King ci dilania. Killmonger ci devasta. E tutto quello che vi pare. Ancora Thanos. Stanno giocando tutti Thanos. Quindi è normalissimo beccare solo Thanos. La gente non si sa divertì. Eh... Vabbè. Allora, abbiamo Hercules. Potrebbe essere un po' lento, però, Hercules. Oddio, parliamone. L'idea sarebbe quella di fare anche il 99 e poi fare Clock. Capito? Però, vedi, è troppo lento. E niente, raga. È troppo lento. Facciamo Clock. E... E poi buttiamo Hercules. Dove? Non lo so dove. Poi lo vediamo. Poi lo vediamo. Arriva anche lui, Log Joe. Non siamo contenti di ciò. Niente. Abbiamo preso una location sbagliata. Bene, bene. E... Hercules. Sposto Human Torch. Passo. E... Basta. Cioè, nel senso, Dagger la lasciamo sui sono a Muir. Ok. Arriva lo Snap. Eh... Ci amiamo. Eh... Forse dobbiamo spostare pure Dagger. Non lo so. Ok. Psylocke in realtà va bene, raga. Psylocke va bene. Oh. No. Un 20, capo. Un 20, Martyr. Un 20, capo. E... E... 99. E... C'è un ragazzo di paura di... Di coso, raga. Di... Di Shang-Chi che non potete capire. Un 20, capo. 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 Non so quello che succederà Ma voglio Vorrei viverlo con voi Il 2099 ammazza pure una carta Jeff va bene No bro Ha fatto Ha fatto blob in mezzo O Shang in credit Non lo so Oddio Oddio batto blob Con il mentor si impazzisco Follia Follia Bro sto volando Stamane sto volando Ercole Ercole Perché sto a vedere Bro Il 2099 Che mi ammazza la carta Ercole Che mi No regà Per il mio fisico Questo è troppo Bro Basta A me massa carta Perché mi incazzo Dici Matti Ma quanti punti ha fatto Ercole Quanti punti ha fatto Ercole Vabbè Ercole ha giocato per 16 punti Ercole ha giocato per 16 punti Mo A una certa Alla fine ha detto Vabbè Glock te lo butto via Purtroppo Brutto Però Cioè Regà Il 99 ha giocato per 6 più 7 punti Regà Sto di monce ha capito un cazzo Questo tipo dovrebbe disinstallare il gioco L'ho brinato L'ho distrutto L'ho asfaltato L'ho nichilito Poi vabbè Insomma Blob abbastanza Abnegante Regà Io mi entorcio a 46 tutti i giorni Sto impazzendo Sto impazzendo Sto godendo come un porco bro Ovviamente non ho controsnappato Perché mi aspettavo Ah Che avesse qualche teccio Visto che lui mi ha snappato Con gattiveria Io purtroppo ancora vivo in questo gioco come Pensando che la gente snappi Con un motivo valido Poi Non mi rendo conto del fatto che la gente snappa Ma cazzo Comunque regà Manteniamo sto focus E continuiamo a vivere questo sogno Perché sto vivendo un sogno Attenzione Audio Bene 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 Super flusso Bene dagger Non so bro Sto veramente godendo Veramente tanto Dagger in mezzo Del chill Così Dagger in mezzo Chill Tranquilli E si vede Si capisce Avete visto Dal quanto serve Ovviamente in questo mazzo bro Sono super contento Per aver messo dagger Perché ovviamente Nella partita di prima Ho scelto volutamente Di non spostare dagger No lo spostate per realtà Che cazzo Dio No non l'ho spostata Non mi ricordo Uh Uh Ercole Non so dove mettere Ercole Probabilmente ragazzi Lo mettiamo in mezzo Ercole Potremmo anche passare Però Boh Perché su super flusso Non lo posso mettere Sarebbe stata Ovviamente La location migliore Mettiamola in mezzo Non posso Non posso Non giocar tre in mano Ok Lui comunque Non ha trovato Granché Perché non ha pescato Però Il super flusso È molto forte Per lui Briccato Tanto Briccato Voltur Human torch Non posso fare Dotto strange Come solo voltur Regà Ci serve una cazzo Di carta E manco però Una carta Mi serve Una Che sia con spider Che sia Boh Non lo so bro Una clock Qualcosa Qualcosa Per favore Qualcosa Niente E Devo fare imdala Boia Per forza Devo fare imdala Non è male imdala Insomma Non è manco il massimo Voglio dire Capito Vabbè Vediamo Ok Dagger Va in mezzo Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Ok Contestiamo Trillocation Va di Devil Dino Ok Ok Ci sta Abbiamo un Dotto strange Che è fortissimo Lui non sa Che non abbiamo Shang Vediamo Vediamo Certo che Shang Ce lo potrebbe Aver lui Però Io farei Dotto strange Zabbu No Farei tutto strange Con spider Zabbu Vediamo Ho veramente Tanta paura Di 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 Shang Lo rispetto Comunque Raga Punti Li facciamo Ovviamente Non abbiamo Un turno Sei Lui pure C'ha una carta In mano Però Però Ecco Shang Qua Diciamo Che è molto Forte Perché Mi è Spaccato Due carte Lo vedete E Questo game È perso Perché Perché è perso Cioè Nel senso Lui fa Valkyrie a destra E mi ammazza Raga Abbiamo briccato Tantissimo Stattita Tantissimo Tra altre cose Ecco Non ho trovato Clock E Werewolf Che sono Le migliori Carti Da trovare Vi do Di tirare Più Tardi Sperando Che si Ritiri Anche Lui Qui Non lo so Perché dovrebbe Ritirarsi Lui Onestamente Ma Non si Ritira Mai Ovviamente Tra Shang E Valkyria Ha già due Out Per vincere La partita Di botto Cioè Non deve Fare Niente Basta Che gioca La carta A destra Va bene Abbiamo perso Abbiamo perso Il minimo Raga Superiore Empanata Che buona L'Empanata Dove sta avvenire Una voglia Dei cazzi Vuol dire Vuol dire niente E niente Raga Purtroppo Senza Zab Non abbiamo Ok Dagger 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 La sposto Per il meme Gioco Werewolf Cercando Cercando di capire Come vincere Con questa mano Scusate un secondo Perché Tra l'altro Il 2099 Non funziona Nemmeno Visto Armor Quindi Boh Tocca A inventarsi Qualcosa Tocca A farlo Subito L'unica Carta buona Che c'è In questo momento E se andate Werewolf Però non c'ho Zab Per città Il mana Lui continua A passare Lui continua A passare In realtà Non è che ci metto Troppo Io Andagli Sopra A sinistra Molto triste Sta partita C'è Veramente Molto triste Però Non Non so Che altro Divi C'è Devo chiudere Con him Dalla Fa schifo Ehmdall Fa proprio schifo Ehmdall E' una merda Ehmdall No Non posso fare Ehmdall Possiamo fare Dotto Strange E il 99 Dici tu Matti Ma come vinci Eh Vinco perché lui Non ha rank E probabilmente Farà Hulk In mezzo Bro Non so Che altro Dirti Ehmdall Questa è la play Ehmdall Ehmdall Mergogno Come un cane Ma questa è la play Che devo fare Vinci 99 In mezzo Non fa niente Boh Oh vabbè Ehmdall Raga guardate Guardate che faccio Un botto di punti A sinistra Io Hulk Lo sapevo Non ci credo Ha giocato Ha giocato Ha giocato per Ehmdall E ha fatto Hulk A De Ma scusatemi Ma io vincevo anche con Ehmdall E' un cretino Io con Ehmdall Non ci fa paura Non ci fa paura Non ci fa paura No 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 Non ci fa paura Minimamente Raga Human torch Ok Ci fa molta paura Ma tutti con la mind oggi Raga Ehmdall Eh facciamo dagger Raga Cioè senza zabu Con zabu era pure bona Stamano Però senza zabu No Servirebbe clock Tipo Clock Attenzione Ultir Non riusciremo a giocare Hercules Ok Vabbè Lui fa Mobius Che a noi non serve un cazzo Non riusciremo a giocare Hercules Raga Forse Oddio vediamo Dipende Hmm 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 Go spider clock Voltura a destra Ehm Raga Sto pensando Se no se fare Hercules È molto lento È tutto troppo lento No facciamo ghost rider Clock Ehm Vediamo Go spider Che ghost rider Insomma avete capito Allora Voltura Se va sto giretto Clock Eh Ma raga Di base Dipende anche come pesca lui Allora Opprio Potrebbe fare il prof Non credo Non credo Che Allora Adesso Ne mettiamo Hercules E dobbiamo capire Che carta Vogliamo Far spostare È molto forte Di fare Lo stride Non fosse Così A caso Io in realtà Non fosse Possiamo anche non farlo Perché possiamo Dobdeccare il 99 Vediamo È tutto molto Ovviamente Sposterà una carta A caso Oh Human torch Che è la prima Human torch È un 8 Regà Ma la collo È una 4 Dagger Lui fa Thanos Indale Ah bro Va bene Cioè Hercules Sposta Da l'Hugger Clock Comunque È mezzo Conte Non lo so Human torch È un 16 Non targettabile Da Non posso Snappare Altrimenti Capisce Che c'è Indale In mano Quindi Voglio dire Come se fosse Una giata Fortissima Sì Lo è Anche perché Human torch Non è più Targettabile Adesso Da 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 Shang-Chi Dagger Se prende altri Due punti Minimo e mezzo Indale Contessa Destra Regà Questo game È sempre vinto Hercules Ancora una volta Ha fatto punti Esponenziali Su Human torch E c'è da dirlo Come il primo game In cui Human torch L'ha 40 Qui fa 16 Quello mi fa Molta paura Che è Doctor Doom Cos'è Blob Regà Vi posso dire Una cosa Indipendentemente Dal rank Degli avversari Che trovo Contro Questo mazzo Ha una cosa Che è fortissima E dovete accettarlo Tutti quanti L'imprevedibilità Cioè Il mazzo Move Puro E il mazzo Tendenzialmente Poi vi dì Stamattina Già ragazzo Abbastanza Stango Di aver vissuto Perché Te spreme I neuroni Però Non ci stanno Giocando Attorno Cos'è questa roba Qui Blob Abbiamo Arrato I Thanos Stamattina Ma poi Beccando gente Che sta molto Al tan classifica Insomma Ragazzi Fatevi una vita Imparate a giocare O come direbbe Franghino Imparatevi a magnacche Non ha alcun tipo di senso Ovviamente In queste circostanze Io sono molto contento Del video di questa mattina Ma veramente contento Primo perché Non pensavo Di realizzare Un contenuto Così avvincente Con la carta nuova Due Perché ho fatto funzionare Molto bene la carta nuova Impressioni finali E pareri Non comprate Hercules ovviamente Non voglio Essere in paraculo Però Però Ma raga Ci stanno carte peggiori Questo Questo devo dirvelo Cioè ci sono carte peggiori In un mazzo Un move puro Che ha sempre sofferto Un po' La mancanza di carte Hercules è una buona aggiunta E ricordatevi sempre una cosa Che su Marvel Snap Le carte non muoiono mai Quindi non è detto Che in un futuro Una carta Dal potenziale di Hercules Possa Non essere effettivamente Messa Vi ringrazio Per seguirmi qui sul web Amore mio Ci vediamo oggi In stream alle 5 Del mentre Un buon proseguo di giornata Un grosso abbraccio E bella Un brano Come La mochta Un brano Un brano Un brano